Ritroviamo con piacere Luciano Dalmolin, oggi accompagnato da Alessia Dallò. Bentrovati a Radio ABM. Buongiorno a te. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di ABM. Grazie di questo caloroso saluto. È stato presentato lo scorso 22 marzo un ricco volume Sapori della Valbelluna, opera ideata dall'Associazione Culturale Vesesse. Ne parliamo insieme. Allora, Luciano mi ha detto che inizi tu Alessia. Parliamo di questo bel volume che poi è il secondo, è il secondo no? Ne avete fatti altri perché io mi sono un po' persa. C'era Sentieri della Valbelluna prima. Esatto, però questo è il primo 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 con il marchio Valbelluna che è un po' la novità portata avanti dall'Associazione Vesesse. Un marchio che si propone di proprio esplorare a 365 gradi la Valbelluna, di raccontarla. Quindi sicuramente sguardi sulla Valbelluna, no? È stato un preludio di questa Sapori della Valbelluna. Posso iniziare a presentartelo proprio partendo dal ricco. Ricco di sapori, ricco di tradizioni, ricco di informazioni preziose. Preziose che per fortuna sono state scritte e da adesso in poi non andranno più perse. Questo è importante, sai, perché tante ricette magari del passato sono state perse e quindi bisogna, mi diceva mia nonna, bisogna sempre scrivere Emanuela. Scrivi, scrivi, scrivi perché quello che scrivi resta, è inutile dirlo. Ricette e ingredienti. Anche gli ingredienti. questo è, secondo me, uno dei punti di forza proprio di questo volume. Il fatto che prima di ogni ricetta troviamo proprio un bel escursus su quella che è la materia prima. Ci viene raccontato dove trovarla, come valorizzarla e anche un po' di storia, qualche ceno insomma di curiosità che riguardano proprio il prodotto. Questo è sicuramente ciò che non lo rende solo un ricettario, Sapori della Valbelluna, lo rende proprio un libro di cultura enogastronomica. Quindi vi siete appoggiati anche ai consorzi, immagino? Allora, loro, diciamo, nella parte fattuale non hanno contribuito ma ci hanno sostenuti. Lo abbiamo visto durante la presentazione. C'erano tantissime confraternite presenti, c'erano i presidenti, dei vari consorsi, veramente tante persone che sono state con noi a festeggiare questa grande riuscita. Però ovviamente c'è un aspetto tecnico. Il libro nasce da una storia. Il Vesesse quest'anno fa 25 anni. 25 anni ne ha fatte tantissime di cose. Nel 2017 sono state fatte le prime copertine a tema food. Il nostro mensile appunto delle tematiche che vengono portate avanti nel 2017 con una collaborazione con Slow Food, se non erro, è stata proprio realizzata questa serie di 12 copertine. Una serie che è stata poi ripresa, rinnovata negli ingredienti nella proposta nello scorso anno, nel 2023. E quello, diciamo, è stato un po' l'input di dire facciamo qualcosa di più. Perché in particolare durante il 2023 c'è stato questo gruppo coordinato da Gian Pietro Frescura, un gruppo di fotografi che si è mosso per fare video, foto, delle ricette che trovate anche proprio nei nostri canali social. Se volete andare a spulciare. E quindi vedendo il presidente che si metteva in moto questa macchina così importante, abbiamo detto ma perché no? Mettiamo questi sforzi tutti riuniti. E forse il fatto che sia arrivato al marchio Valbelluna ci ha dato una spinta in più. Non ho spinta in più perché in realtà il progetto ci sarebbe già stato. Nulla viene per caso. Sì, non esiste una scelta presa dal direttivo che non abbia una vera e propria lungiminanza. Praticamente è una sorta di raccolta di ricette di quelle che abbiamo trovato anche nei mensili, no? Oppure sono state integrate di più? Manuela, questo qui è un progetto che arriva da lontano e aveva un obiettivo ben preciso di dare in evidenza, diciamo, l'identità bellunese per quanto riguarda la gastronomia. Perché noi abbiamo una fortuna di vivere su un posto dove la biodiversità è ancora un elemento che ci fa distinguere rispetto ad altri territori. Qui non abbiamo monoculture come vediamo da tante parti. Qui abbiamo ancora una pluralità di culture e l'esempio sono le cooperative che sostengono anche produttori part time e gli stanno dando non solo una dignità ma sta dando anche una mano a difendere e a salvaguardare e a tenere in ordine il territorio. Quindi partiamo dal fatto che abbiamo una pluralità di prodotti veramente particolari che ci trovano in tante parti ma qui se ne trovano di tutti i colori non solo ortofrutticoli ma pensiamo alla noce, pensiamo alla castagna, sono tutti i consorsi poi che hanno sede qui nel Feltrino. E quindi partendo dal fatto che abbiamo ancora una biodiversità molto spiccata ecco che era naturalmente gioco forza e naturale parlare di come questi prodotti dalla terra arrivano sulla tavola delle persone. E qui abbiamo lavorato proprio in equip insieme a un gruppo che veramente ha lavorato con la passione bellunese di far capire che noi non siamo ultimi a nessuno, anzi direi siamo molto più avanti di quello che noi non pensiamo. Quindi il gruppo degli chef che ormai ci accompagna da tanto tempo e anche altri 20. Gian Piero Frescuro è già stato nominato. Abbiamo lavorato con Stefano Sanson che credo che sia il tecnico di spicco agronomo nella nostra provincia. Quindi la parte diciamo anche di approfondimento del prodotto la si trova nel giornale. Qui abbiamo fatto una sintesi ma c'è tutto quello che serve. E quello punto che riprendo è che abbiamo dato una dignità al piatto e al prodotto bellunese ma senza nostalgia. Senza nostalgia. E mi ricorda che no ho il Taminona. Sì è vero anche io me lo ricordo al polastro fatto in ticcia da me mamma e che l'ingusto che non mi trasmenterò mai. Ma non l'abbiamo fatto con nostalgia. L'abbiamo fatto con uno sguardo al futuro. Infatti le mani davanti sono mani giovani e di dietro c'è la tradizione. Quindi c'è proprio veramente un passaggio tra le generazioni che ci hanno preceduto e le nuove generazioni ma con le mani in pasta. Cioè con la voglia di poter fare. E questo è appunto il messaggio che con questo libro di Sapore a Valveluna vogliamo portare a tutti quelli che vogliono affacciarsi a questa esperienza. Vero Alessia? Assolutamente. Neanche dentro mi viene da dire che appunto non ci dobbiamo aspettare delle ricette tradizionali. Per niente anzi una veste quasi nuova. I nostri legumi utilizzati per l'hummus. Certo la cucina poi si è anche evoluta voglio dire nel tempo. Bisogna stare anche un attimo ai passi col tempo. Non è che possiamo continuare come diceva Luciano a fare la pita anteccia che è buonissima per carità però oggi abbiamo anche altri strumenti altre cose no? E quindi bisogna anche Si trova anche quella. Sicuramente. Ma come dice diciamo il nostro mentore Gian Pietro Fescura la fantasia in cucina fa differenza. E' certo. Usando sempre le stesse cose. E' vero. Su questo hai ragione. Su questo hai ragione. I legumi poi stanno prendendo campo perché abbiamo una popolazione tantissimi che sono diventati vegani no? Quindi i legumi che magari una volta erano il piatto dei poveri è diventato una cosa ricercatissima nella cucina. Questo ci fa pensare che ci saranno anche tante ricette dedicate ai legumi. Pensiamo al fagiolo di Lamonga. Pensiamo magari rimanendo che non è un legume però la patata di Cesio e tante altre cose. Quindi tu parlavi veramente che abbiamo di tutto nel nostro territorio. L'importante è anche saper cogliere tutte queste cose che abbiamo a chilometro zero perché poi le troviamo nelle varie cooperative. E di questo dobbiamo essere grati perché tengono alto anche la bandiera. Infatti uno dei messaggi è provate le ricette ma andate a fornirvi della materia prima in loco. Sono d'accordo. ed è anche una materia ottima che si trova con facilità perché insomma non è difficile incontrarla. Non possiamo fare nomi per motivi naturalmente di pubblicità occulta però se uno ha un po' un'idea può partire anche dal proprio orto. Sì sì sì. Del proprio orto di casa. Questo è sicuramente l'aspetto che più mi piace devo dire di questo volume perché ti invoglio proprio a dire ma se questi prodotti sono nel territorio ma perché non provo anche proprio partendo dagli ortofrutticoli a provare a coltivarli. E poi c'è quel grande aspetto che è quello che sentiamo sulla bocca di tanti che è quello dell'economia circolare. Certo. E questo è un libro che ci insegna anche appunto a capire qual è il valore nel nostro territorio quindi anche la dieta più particolare in realtà abbiamo dimostrato che può veramente trovare nel territorio delle radici del produttore. Perché stanno nascendo anche gli orti comuni nelle città e quindi sono veramente cose che ci fanno sperare in un'agricoltura circolare come dicevi. C'è un altro aspetto. La cucina tipica del tempo era quella del non spreco. Ed era un valore cioè era una necessità e poi è un valore. Infatti qui abbiamo riproposto alcuni piatti tipo me ne viene in mente uno la panada. La panada è naturalmente il recuperare tutto il pane vecchio secco che si ha in casa, rilavorarlo e riprodurlo. E' una roba buonissima. Sì, una volta mi ricordare che la panada, la magnea, la menona perché l'era senza denti e quindi lei ha bisogno che era più simonesina. Però se vogliamo vedere è un valore recuperare. Hai ragione, hai perfettamente ragione. E quindi qui oltre che ad aver diciamo promosso delle ricette anche in maniera innovativa. Penso all'hamburger di Fea che è presentato come fosse quello dei miei facciamo vedere. E abbiamo proprio anche le ricette quelle più diciamo più tipiche e poi non abbiamo trascurato anche la parte dei dolci, non abbiamo trascurato la parte del gelato, del zafferano, delle dolomiti. Volevo dire, qui veramente c'è molta identità e questa è la cosa che veramente a noi ha fatto più piacere lavorando su questo. Ma immagino, immagino. Vorrei far vedere la foto, Manuela, perché ecco questo secondo me, non so se si vede se la mettiamo qua davanti, però insomma è uno dei valori proprio più belli e più importanti da avere tra le mani anche questo, questo volume, no? Eh, queste foto che sono state proprio ricercate, ecco forse adesso la camera ci dà favore. Eh, sono delle, sono proprio delle foto molto eh significative perché anche l'occhio vuole la sua parte anche quando noi scegliamo un piatto eh molto spesso proviamo a pensare quando ci troviamo all'estero, no? Eh, i posti dove arrivano i turisti molto spesso hanno le immagini, prima ancora del nome del piatto. Perché? Perché arriva un'emozione quando noi vediamo l'immagine. Beh, l'immagine comunque ha la sua importanza da sempre su qualsiasi cosa. È un metodo comunicativo importante. Eh certo. Comunque le foto, a me è piaciuta tantissimo quella di copertina che ci ha mostrato prima Luciano, le mani giovane che impastano e sul retro le mani di un tempo. Quindi come un passaggio di testimone, no? Però eh c'è anche un cambio e quindi eh proprio bella eh ti arriva tanto. Poi voi curate sempre anche le copertine del Vese S sono sempre meravigliose e quindi avete già. No, eh lo dico perché anche. Abbiamo, abbiamo Daniele Pol che è il top, è bravissimo. Sì. È veramente bravo. Perché dobbiamo, dobbiamo dirle queste cose. Cioè non mi stupisco nel vedere queste foto perché bene o male ci sono abituata leggendo il Vese S, no? E magari uno che non ha mai letto il Vese S, abbonatevi perché è veramente un mensile che merita di essere letto, che porta davvero la cultura, in questo caso anche culinaria bellunese. Poi fatto da volontari. E quindi questo è un valore aggiunto. È un valore, sì. È certo. Diciamo che è un po' il nostro capitale più importante. Il volontario che lavora all'interno dell'associazione è il patrimonio più importante perché eh prima di tutto è libero. Si parlava prima non ha il tesserino del giornalista, no? Quindi è libero. Porta le proprie idee. Naturalmente devono essere idee che comunque devono essere un po' condivise che naturalmente possono passare su una rivista come la nostra. E questo è uno degli elementi che ci dà la possibilità di avere sempre freschezza all'interno del mensile perché ci sono tanti contributi e i contributi aumentano comunque la prospettiva. Aumentano. Arricchiscono anche, no? Certo. Apronamente, assolutamente. Ascoltate questo libro dove lo possono trovare i nostri connazionali all'estero in vendita. Allora, siamo in una prima fase in cui attualmente lo si trova in provincia di Belluno o sulle librerie qui dell'Alta Trevigiana perché intanto questo qui si deve ammortizzare, ok? Quindi lo si trova nelle librerie oppure anche nelle edicole dove generalmente si trova gli eseri. Arriveremo anche a fare una vendita, se lo vogliono ordinare su Amazon c'è già, siamo noi che glielo mandiamo, no? Ok, e questo è importante. Questo è già. Poi vedremo di fare una cosa e questo sarà uno studio successivo in cui vedremo di fare un qualcosa di print on demand, magari anche in lingua, ma questo diciamo è in un prossimo futuro. Attualmente siamo qui con i piedi per terra, abbiamo il nostro bel volume. Se ci possono anche raggiungere attraverso il numero verde o il numero di mail e noi riusciamo a mandarlo oppure ordinandolo anche su Amazon. Come sta andando la vendita e quali sono i consensi? Che cosa avete come recensioni? Positiva immagino perché... Beh, molto positive. La vendita sta andando molto bene perché abbiamo già rifornito alcune librerie della prima quantità che abbiamo consegnato. Quindi siamo molto contenti anche se questo è un libro che non ha stagioni, può andare bene anche fra un anno, fra un anno e mezzo, due, sperando di aver fatto magari una ristampa. Cosa dici te adesso? Sì, io l'ho già detto anche in occasioni precedenti, c'è tantissima curiosità sempre per il mondo della cucina, dell'enogastronomia ecco, qui in generale. C'è una curiosità, cioè anche se sono cose che magari si conoscono molto bene, sono vicine ecco, c'è tanta curiosità da parte del pubblico che è sempre tanto numeroso. Mi viene da dire, è stato anche un test, no? Quello delle copertine. Avere in copertina l'elemento food ci ha dato del valore perché le persone si sono affezionate anche a questo. Sì, naturalmente si deve fare anche della sperimentazione perché non avendo noi, essendo un'associazione pur strutturata ma comunque volontariato, non abbiamo la possibilità di fare dei survey per vedere come sono i trend, si cerca di capire, si cerca di avere sensazioni, ma fino adesso mi sembra che le cose le stiamo imbroccando, quindi siamo molto contenti. Certo, basta vedere anche le trasmissioni televisive, sono tantissime improntate sulla cucina, no? Che hanno un bel anche riscontro di pubblico, quindi immagino che abbiate azzeccato proprio anche la copertina dei vari besesse, soprattutto in questo, Sapori della Valbelluna. Spendiamo anche due parole sulla precedente edizione. Allora, sì, mi fa piacere che tu me lo chieda perché questo è un secondo progetto che noi abbiamo messo, diciamo, sul tavolo in visione e in previsione anche dell'Olimpia di 2026. È per questo che te l'ho chiesto. Questo è il secondo supporto turistico, il primo è Sguardi sulla Valbelluna che è molto conosciuto, ha avuto una grande diffusione perché siamo arrivati alla quarta ristampa e dobbiamo fare la quinta perché abbiamo già finito anche la quarta ristampa. Poi c'è Sapori della Valbelluna e stiamo preparando quello, diciamo, di percorsi sulle biciclette in una Valbelluna ancora più ampia perché parte dal Monte Grappa e arriva al Cansiglio, quindi una Valbelluna estesa. In collaborazione con la FIAB di Belluno e con le guide di Mountain Bike abbiamo raccolto una serie di percorsi che adesso sono, diciamo, al vaglio del nostro tecnico grafico che sta mettendo giù l'impianto del libro e speriamo di essere presto anche con quel libro là. E quindi noi con questa triade di libri possiamo dire noi come associazione culturale VESES ci siamo messi a disposizione della provincia, del territorio affinché coloro che verranno per le Olimpiadi ma anche dopo possano trovare un qualcosa che parli di bellunesità vera, del suo territorio che è magnifico e stupendo ma anche naturalmente della sua cucina. Questo è il progetto che il VESES propone ai bellunesi. Eh scusate se è poco, mi sembra una bella molle di lavoro che comunque ha dato i suoi frutti e darà i suoi frutti perché parlate di ristampe quindi si vede che sta andando molto bene. Noi andiamo con i piedi per terra, non facciamo grandi tirature perché naturalmente siamo un'associazione, non siamo sicuramente un istituto bancario e quindi anche noi facciamo i passi secondo, diciamo, le nostre gambe anche se la testa va più veloce dei nostri passi. Beh questo è bello, questo è bello, è bello anche avere tante idee, no? Perché abbiamo, io lo dico sempre, un territorio splendido, un territorio ricchissimo di tutto dalla cucina e al paesaggio e veramente alla vivibilità, a tutte le cose che ci circondano ma noi ci siamo così abituati che le abbiamo perse di vista e invece bisogna recuperarle e tenere alta la bandiera della nostra provincia perché veramente merita di essere visitata. Merita. Merita. Merita anche di essere vissuta. Certo, vissuta. Visitata è anche vissuta, quindi si può arrivare anche tutto l'anno perché in tutte le stagioni si può fare qualcosa, non è esclusiva come la riviera che o vai d'estate e poi dopo l'inverno non ci vai più, invece si può andare l'estate, in inverno, sciare o tutte le attività se ci sono a neve, ma anche nelle stagioni di mezzo perché... Anzi, sono le più belle, le citture, l'autunno, i fruiazi che abbiamo qua, è bello. Certo. Eh sì, è perché parliamo sempre di calo demografico, no? E invece abbiamo veramente un patrimonio ricco, io dico sempre anche ai giovani, mettetevi in gioco perché nella nostra provincia vi potrebbe dare anche un sacco di opportunità, bisogna saperle cogliere però e questo diventa già un po' più difficile, essere anche sostenuti. Ne sparo una. Allora, solo 24 ore ha pubblicato, ha detto che Belluno è la più piovosa d'Italia. È vero. No? Ok, sì, d'accordo. Ma con il cambiamento climatico chi ha l'acqua vince, quindi? Eh, questo non fa una piega, che poi non ho mai capito questi sondaggi come su che cosa, su quei basi. No, ma i sondaggi sono fatti, sono scientifici e quindi non li discutiamo, ma guardiamoli col bicchiere mezzo pieno. Eh certo. Chi ha l'acqua vince? Quella che è un po' la riflessione che mi viene a fare su questo pensiero è proprio che lava il Belluno è un terreno fertile. Qui possiamo dire tante cose, taluna e volte tra i bellunesi ci diciamo proprio siamo dei bellunesi, quasi come fosse un insulto. Ma in realtà no, siamo dei bellunesi nel senso che ci pensiamo tanto, ma poi piano piano siamo gente resiliente e non perché va di moda questa parola, siamo persone che portano avanti un progetto in maniera concreta. E questo spirito un po' montanaro mi fa pensare che viviamo ancora in un posto dove c'è ancora tanto da scrivere. E' vero che qualsiasi tipo di persona talentuosa o che comunque riesce ad avere una fortuna nella vita, riesce a scrivere il suo pezzettino di storia ovunque si trovi. Però qui secondo me ci sono delle possibilità in più perché appunto c'è ancora tanto valore umano che banalmente non è poco. E detto da una giovane questo fa piacere, no? E all'interno delle persone ce ne sono tante i giovani. Questo è bello perché hanno una carica vitale, hanno una maniera fresca di vedere le cose, no? E mi sembra corretto che ci sia anche il cambio generazionale poi piano piano come tutte le cose. È fondamentale, è fondamentale. Volevo aggiungere ancora una cosa se mi è permesso. Mamma mia. Ho incontrato proprio pochi giorni fa una giornalista francese, una giornalista del food, che era in Valbelluna per scoprire un territorio che non conosceva. Ha chiesto una partnership perché ha detto io qui voglio mandare i francesi. Se lo dicono loro che sono la grandeur e che riconoscono che al di là dei loro confini ci può essere ancora qualcosa che gli può interessare. Io credo che possiamo solamente rinvocarci le maniche che gli ingredienti ce li abbiamo. Abbiamo solo bisogno di metterli in pista, tutte queste cose qua. Sì, dobbiamo imparare a metterci un po' insieme perché non possiamo continuare ad accogliere chi arriva fuori separati. Dobbiamo imparare a fare rete. Eh, questo è importante. E noi purtroppo forse su questo siamo un po' carenti. tendiamo sempre ad avere tantissime associazioni, ognuna che lavora per conto proprio e alla fine invece l'unione fa la forza. Bisognerebbe proprio, come dici tu, fare rete. Facciamo, facciamo. È importantissimo. Sì, piano piano, dai. Siamo montanari dal cuore grande. Videnti qualche volta. Io sono un ottimista, diciamo, di natura, quindi... Vedi sempre il bicchiere mezzo pieno. Sempre. Eh, quindi è già importante, dai. Allora, io ringrazio Luciano e Alessia che sono stati a Radio ABM. Vi invito a ritornare alla prossima pubblicazione, quella per le Olimpiadi, no? Anche prima. Anche prima, ok. Abbiamo i coderni del territorio. Ah, vedi. Se vogliamo parlare una volta anche di quello. Certo, certo, certo. Poi avete anche i libri, no? Le letture. Sì, abbiamo diverse cose. Abbiamo talmente una cosa che, se non volete che ci inflazioniamo... Che il nostro direttore ormai sia perso. No, no, e noi ringraziamo Radio ABM che ci dà la possibilità appunto di parlare anche delle nostre cose. Anche in questo momento stiamo facendo rete, caro Manuela. Eh, questo è importante, lo dico sempre. Grazie mille per essere stati con noi. Un saluto a tutti gli amici dell'America che ricordo con grande piacere. Anche io saluto tutti, che ho anche dei parenti che dal Brasile seguono ABM. Ciao a tutti.